e uno dai due esatto dai 3 ok dai 4 ecco benissimo dai 5 5 5 dai 6 6 non c'è 6 ok ah ma tu hai 6 anni ricordati ricordati che tu hai 6 anni eh giusto fare poche cose qui qui va bene con la schiena guarda che ti ho aperto qui e non vai più a lecare questa manica capito 6 anni hai già Lorenzino ma io ti ho incontrato tramite biondini oppure come ti ho incontrato o ti ho incontrato prima di biondini no lo so questa è una discussione aperta tra me e diego no dovrebbe essere che prima hai incontrato lui e lui l'ha mandato perchè io ti ho incontrato qui nella Puglia no? si no ma magari Sabine potrebbe essere Sabine mi ha detto non potresti vedere e poi poi ti ho risposto per lei perchè non ho andato un po' dalla mia collega nel frattempo Rosaria si si così è successo e Sabine ci ha organizzato è bene 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 ecco bene sei voi qui vai ma o